Benvenuti in Messina signori e signori, abbiamo da poco girato il figlio di colesteria, questa è la visuale che si presenta, o no? Neanche a quest'è in di neve non deve vanno. Comunque le piste sono in condizioni perfette, la neve è velocissima, nonostante questa visibilità ci si riesce anche a divertire. Un saluto dalle nevi della Lessigna.